Che vuoi? Albano contro Loredana lecciso, ecco cosa ha detto della sua fuga a Pavia L'artista Salentino è stato ospite in una nota trasmissione televisiva Continua senza sosta la vicenda di gossip legata ad Albano e Loredana, video. Dopo le dichiarazioni di quest'ultima nel salotto di Barbara Durso, è arrivata la replica da parte del cantautore pugliese Carisi, intervistato in un programma della Rai, ha parlato di tanti aspetti della sua vita sia artistica che privata. Cosa ha dichiarato riguardo la sua presunta crisi con l'ex subret Salentina? Nel prosieguo dell'articolo troverete parte delle sue nuove dichiarazioni Albano ospita Carta Bianca. Ieri sera Carrisi è stato ospite nella trasmissione di Rai 3 Carta Bianca condotta da Bianca Berlinguer Nel corso dell'intervista il cantautore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, parlando di politica e dalla sua lunga carriera che giungerà al termine il 31 dicembre di quest'anno Ovviamente la giornalista non poteva non menzionare Romina che, negli ultimi tempi, è tornata alla carica con delle affermazioni fatte sui social e anche in programmi televisivi Albano ha confermato ancora una volta di essersi del tutto riappacificato con l'ex moglie e oggi, dopo tantissimi anni di scontri e battaglie in vari tribunali, hanno ritrovato la serenità alla complicità di un tempo L'artista ha ribadito nuovamente che la cantante statunitense è la madre dei suoi figli, quindi non può fare finta di nulla Ovviamente questa riunione ha dato un po' fastidio a Loredana ma la situazione è degenerata ancora di più quando la Power ha iniziato a lanciare delle provocazioni sia verso di lei che al suo ex Per questo motivo, prima di Natale la Salentina ha fatto le valigie e si è diretta a Pavia dove vive attualmente. Il cantautore ha lanciato delle frecciatine a Loredana e alla D'Urso Nel corso dell'intervista a Cartabianca la giornalista ha chiesto al suo ospite cosa ne pensasse sulla fuga di Loredana da Cellino San Marco Albano, senza giri di parole, ha affermato che non vuole aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda, questo lo fa fare alla sua amica Barbara D'Urso Il cantautore ha ribadito che la situazione è zero a zero, si parte sempre da zero e si ricomincia di nuovo da capo Carrisi molto infastidito, ha comunicato che gli hanno riferito che Loredana ha lasciato la tenuta, ma dove è andata? L'uomo sta leggendo la sua vita sui giornali di gossip ma a quanto pare non è lui a creare tutto questo scalpore mediatico L'intervento del Salentino ha fatto intendere di non essere d'accordo con la decisione della Leciso, video, di aver lasciato i suoi figli da soli per andare a meditare nella casa del fratello a Pavia .